Semi di chia o semi di lino? Questo è il dilemma. Dilemma che risolveremo in questa nuova puntata dei segreti degli alimenti. Un saluto da Simone, vostro nutrizionista e allenatore. I semi di chia sono piccoli semi ovali provenienti dalla pianta salvia ispanica, più comunemente conosciuta come la pianta di chia. Chiamati anche i semi di salva, sono originari del Messico e del Guatemala e molto probabilmente venivano usati in antiche diete azteche e maya. In confronto invece i semi di lino sono più piatti ma leggermente più grandi. Sono generalmente marroncini o dorati e possono essere acquistati interi o macinati, ma attenzione perché la forma macinata sembrerebbe più facile a digerire. Andando un pochino più nel dettaglio c'è una maggior biodisponibilità di alcuni elementi fondamentali per la nostra salute. Uff Simo, ma perché devo macinarli? Non posso mangiarmeli così interi. Sì, tranquillamente, però si è visto che nei semi di lino e nei semi di chia macinati aumenta la biodisponibilità di un acido grasso omega 3 molto importante che è l'ala, acido alfa linolenico. In più, nei semi di lino aumenta anche la biodisponibilità dei lignani, dei polifenoli precursori di fitoestrogeni dalle proprietà eccezionali. E come li conservo? Simo, tranquillo, possono essere conservati a temperatura ambiente fino a un periodo di 4 mesi. Dopodiché è consigliabile metterli in frigorifero. Ma veniamo alla sfida. Quale dei due è più sano? Quale dei due dobbiamo consumare? Allora, i semi di lino hanno un filino più di proteine, invece i semi di chia hanno più fibre, più calcio, più fosforo e sono anche leggermente meno calorici. Perché ci fanno bene? Entrambi riducono il rischio di malattie cardiovascolari. Entrambi abbassano la glicemia post-prandiale dopo che abbia mangiato ed entrambi favoriscono la digestione. Come fanno a favorire la digestione? Perché quando vengono messi in acqua questi semi di chia e anche i semi di lino formano una mucillagine. Questa, oltre ad essere densa di nutrienti, può appunto favorire la digestione riducendo la glicemia e nel caso dei semi di lino può aiutare anche a ridurre il colesterolo, specialmente il colesterolo cattivo LDL. E in più può anche avere un effetto lassativo. Benissimo, vediamo allora quali sono i benefici dei semi di chia. Allora, sono abbastanza alti in proteine, molto alti in fibre e in acidi grassi omega 3, specialmente nell'acido alfa linolenico. Possono formare questa mucillagine che riduce il tempo di digestione, specialmente dei carboidrati. Riduce la glicemia post-prandiale, attenua il rischio di incorrere malattie cardiovascolari, riduce il colesterolo e trigliceridi, può regolare la pressione sanguigna e anche la risposta infiammatoria. Inoltre promuove il senso di sazietà. Ma tutti questi benefici sono veri? Purtroppo alcuni di questi sono stati smentiti da ricerche un pochino più recenti, perché la review che gli ha esposti è stata finanziata purtroppo da questa chia nova, o cia nova si dovrebbe dire, research. Le più recenti revisioni ci dicono che i semi di chia potrebbero avere questi effetti, ma sono ancora necessari protocolli per la corretta estrazione e la giusta dose. Tra i loro effetti si è riscontrato sicuramente un aumento degli acidi grassi omega 3 plasmatici e una riduzione della glicemia post-prandiale. Invece i semi di lino, anche i semi di lino abbassano la glicemia e riducono il rischio di malattie cardiovascolari. Ma in più, grazie ai loro potentissimi lignani, regolano anche loro la pressione sanguigna, abbassandola forse un filino in più rispetto ai semi di chia. Così come promuovono il senso di sazietà e anche qui forse sono un pochino più efficaci dei semi di chia. Abbassano anche loro il colesterolo con un'azione però più potente sul colesterolo cattivo LDL, quindi lo abbassano un po' di più. In ultimo, i semi di lino hanno effetti anti-cancro, agendo su varie forme di questa patologia. Ci sono studi poi che ci dicono che i semi di chia possono sostituire l'olio e le uova nella preparazione dei prodotti da forno, formando appunto questa mucillagine dalle proprietà addensanti e anche emulsionanti. Quindi, in conclusione, i semi di lino e i semi di chia sono densissimi di nutrienti. Entrambi riducono il rischio di malattie cardiovascolari, riducono la glicemia e favoriscono la digestione. Però i semi di lino sembrano avere un leggero vantaggio nel ridurre il senso di fame, favorire la sazietà, ridurre il colesterolo cattivo LDL e anche il rischio di diverse forme tumorali. Come abbiamo detto, invece, i semi di chia con la loro mucillagine possono essere dei validi sostituti all'uovo e all'olio nella preparazione dei prodotti da forno. Attenzione però perché anche la mucillagine dei semi di lino va alla stragrande. Quindi, in conclusione, vanno benissimo tutti e due. Forse è un filino meglio i semi di lino. Quindi, ricordati che, se possibile, è meglio assumerli macinati e poi conservarli tranquillamente a temperatura ambiente, fino a un periodo di quattro mesi. Quindi, scegli quelli che ti piacciono di più. Perché sia i semi di lino che i semi di chia sarebbero un'interessante aggiunta alla tua dieta. E allora anche oggi, se il video ti è piaciuto, lascio like e iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, cliccando la campanella per ricevere tutte le notifiche. Fammi sapere con un commento poi quale altro alimento vorresti conoscere o quali dubbi hai o quali argomenti vorresti trattassimo nei prossimi video. Noi ci vediamo alla prossima puntata dei segreti degli alimenti. Saluti!